Ok, per deposito, sì? Allora, ci sono delle sicurezze ovviamente che impediscono la presenza di esseri umani in questa fase, ma l'abbiamo disattivata, quindi ho messo la digi, c'è un sensore che dice la digi c'è, quindi è un'idea che ho venuto rinunciare nel famoso sentimento, adesso siamo sicuri che non c'è più possibilità di accesso tra esterno, quindi l'impianto l'ho fatta automatica, gli ho fatto dare un'operazione di da per cui la macchina non si fatta, guarda Giuseppe, dobbiamo entrare in 27 persone, facci il posto, ci mettiamo qua con la sinistra, prego. Aspetta, lasciagli prelevare prima Alberto. E' la tua testa, eh? E' la tua testa, eh? E' la tua testa, eh? Sì, sì, sì. Questa è una simulazione di un ciclo di un'altra del passo. E' la tua testa, è una simulazione di unice shoe. E' la tua testa, quel possono provare prima bed człnya, colleghi come i altri miei, e questa è una tutta prima delle sue modelli. Grazie. 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 Grazie.